Promuovere ed incrementare l'incantevole suggestione della Valle dei Templi sotto il cielo stellato con l'attivazione delle visite serali e notturne. Il servizio, fruibile per la cittadinanza e per i turisti, promosso dal Parco archeologico Valle dei Templi di Agrigento, ripartirà mercoledì prossimo 15 luglio e sarà mantenuto fino al 18 settembre, con orario dalle 20 alle 23. I dati sono molto confortanti. Dal 2000, anno in cui si è avviato questo servizio, di fatto la presenza è quasi raddoppiata. Quest'anno speriamo di accrescere ulteriormente le presenze, affiancando alle visite serali un carnet di 40 eventi, che sono a vantaggio dei visitatori ma anche della comunità locale, quindi agrigentina e del territorio circostante. Grande interesse intanto al riscosso la nostra Valle dei Templi all'interno dell'area espositiva regionale all'Expo di Milano. Devo dire di sorpresa da parte dei visitatori, nel senso che non si aspettano che un parco proponga delle produzioni agricole, tra l'altro di grande qualità. Per cui alla sorpresa si è aggiunto anche una curiosità, che speriamo si traduca in un interesse reale attraverso le visite e anche con l'acquisto dei nostri prodotti. Abbiamo presentato sia le mandorle che il vino che l'olio e anche il progetto Agrigentium, che mira a valorizzare gli aspetti paesaggistici del parco con il coinvolgimento di soggetti privati, di associazioni e di quanti volessero utilizzare il parco per delle produzioni di qualità che poi possono vendere anche nel nostro punto vendita con il marchio Diodoros.